Don Bairo Luvamaro presenta le avventure di Cimabue. Oggi fu il giorno di Letizia per lo convento e per gli frati tutti che ci ritrovammo avanti lo cancello per rassettare tutto l'orticello. Si fece avanti lo frate Cimabue che se una cosa fa ne sbaglia due. Lo primo tentativo è sfortunato e Cimabue restette incarciofato. Cimabue, Cimabue fai una cosa ne sbagli due e Cimabue ritenta col rastrello ma la fortuna non gli è proprio amica e cade Meschinello nell'ortica. Cimabue, Cimabue fai una cosa ne sbagli due ma Cimabue non si tira indietro e preso lo falcetto accuminato si mette a menar colpi a destra e manca. Anche stavolta ahimè non la fa franca e vola nello spazio sconfinato. Cimabue, Cimabue fai una cosa ne sbagli due ma che cagnara sbagliando si impara. Andammo alla ricerca in 22 e infine ritrovammo Cimabue così per festeggiare in degno modo la ritrovanza e lo periglio scorso frate preore che è un intenditore tiro fuori un liquore al mondo raro. Così nacque Don Bairo l'uva amaro. Anno di grazia 1452. Amaro di uva, bontà e benessere di preziose uve silvane ed erbe salutari. E per l'aperitivo GB Personal, il Jim Bitter.